Sousaite in da Hombur, Sousaite in da Hombur, perché siamo sempre, sempre più ricchi, sempre più ricchi. Siamo sempre più ricchi, siamo sempre più ricchi, sempre più ricchi, perché siamo noi, gli youtuber, più ricchi del mondo, Sousaite in da Hombur, Sousaite in da Hombur, Siamo tornati con il video, guardo che di L.1 il corpo è già sbagliato la sigla, porta di quella puttana, la sigla, non c'è una sigla, SIGLA! 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 No, più. Eh, vabbè, questa serie è partita come una serie clou. e poi non era il division 1, era il division 1 allone profondo pericoloso ma tu! ragazzi si vede ancora che tu ti risponete a sondare più in alto e dite chi segnò per la partita quale partita? i nostri schifo si recuperano, ho mancato su Torino, abbiamo già fatto un gol parla del nuovo codo e c'è davvero i giorni incredibili che non lo so se lo prendo oh no ragazzi siamo tornati finalmente con un nuovo video noi vi portiamo un video nooo eeeh che cosa faccio? non c'è qualcuno ragazzi faiateci anche di prestare andare di volte il fantacalcio visto che manca 1-2 giorni al rinizio del campionato finalmente perché l'Italia fa schifo al cazzo bravo e fortuna ma noi non ti fiamo in Italia eh si perchè noi siamo slavi è vero oh si è sbarcato con gran classico si è qualità no, si, no continuo, continuo che te l'ho abbassato come per questo sembrano no, no, no ma comunque non faccio giocare online che giocare alla carriera lo scudo 8 c'è ma molto un po' di ragazzo infatti ci si chiama si è buco un po' di scontratto anche voi il problema di persone di bagno e di difesa i problemi di giocare in difesa questo gioco non si può giocare c'è giusto ieri pallone ovvio è perché così e poi ci sono tutte le 9 a 4 no non è di gole controllo muovo un po' supporti chi è sicuramente intanto alerico ma coltavo sul pallone roma veramente troppo il pallone sicuramente no vabbè che poi non c'è il capo alle sostituzione l'arrivo come la città ragazzi cosa vuoi vencere? è nostra? è nostra? no che f***o? eh vabè però ci ammigliari c'è la norma del vantaggio ragazzi questa serie praticamente fare adesso vi ciovo anche un amico dal tonico bf il difensore del recupero impedibile lungolini mo sei inutile? tu sei dal tonico veramente oh io se faccio i cosi per fare il passaggio la passa è di Gmert che vuoi da me ma non è profondo pericoloso l'arbitro dunque lascia giocare non è la merda no avevo sbagliato il ciclino oh ma che cosa è sto troppo su vabbè ma il fifa che è contro di noi e che c***o oh che c***o bam la vera domanda è riuscirà a riuscire a segnare il soccorso eccolo ragazzi ci vediamo nella prossima partita i mannetti la suga delle mele giri non lo possiamo fare ma cosa si chiede a me ben tornati con la seconda partita del rhodo tu division bo abbiamo ben evento galatasaray ma come? ecco lo schieramento speciale halloween speciale halloween perchè è benemente la strega eh con 200 gpc in grado di trasformarsi il mio canale è l'uomo ma non lo rimesso il mio canale non ho anche il mio canale le luci c'è una pagata c***o di c***o il corno intero è molto più forte ho messo come la prima volta il sondaggio armi intero sui e mello chi è più forte mo dai no questa è la serie b il p e non fa la serie di voti che non si tratta di una categoria verità il mio raggio sponso non ho mai dovete lasciare 10 mila like solo per questa cosa non ci credo sponso neanche garagio ricordi ben garagio dalle cozzalate il trash degli anni mila dici azzurri alzino non ci credo non è una mia bella stalla se vinciamo contro gazzola con bene 20 il mio amico onestà mi aveva l'europa di roma e la stessa valutazione del bene per me il mondo è sbagliato alunni giustizio conti con una bomba e mondialmente fortissima un po ma poi io mi faccio vedere e' fortissimo la foto di gara non va bene da quanto tempo che cosa la volta vittoria del mondo e' me lo partito pazzi invitati io e' mello io e' mello io e' mello io e' mello è fortissimo da pietà il nuovo ibra chiede scusa chiede scusa a pietà vogliono quittare se quittano ragazzi duemila like duemila like se quittano oh facciamo un'altra partita facciamo un'altra partita facciamo un'altra partita ve la mettiamo perchè mi dispiace cioè abbiamo fatto una partita in mezzo alla prossima partita guarda tutti i ragazzi siamo tornati sempre con il road 2 division un po' terza partita di oggi bla 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 passa porca puttana si stavo poi affettando eh ragazzi siamo tornati perchè praticamente siamo così forti che abbiamo fatto quittà e' regalto c'è a rai col bene e' mello e' entrato guarda e' mello ma è fortissimo e' dappertutto e' praticamente e' mello ha fatto quittare il benevento il titolo di questa il titolo di questo video sarà e' mello ha fatto quittare il benevento ha fatto quittare il benevento no e' mello crack che bello matto 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 vabbè ragazzi e' mello non e' questo figato partito si avvicina all'area cc cc oh matto yes matto 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 no un po' forte un po' è proprio forte ragazzi è di un altro pianeta il bramello il titolo sarà il bramello slatani ammello va bene tratta ammello lo uccide ammello cicciotti ammello ammello ma c'è con me sono fortissimi il penavento la distrugge cantocetti cantoretti così osserviamo lo sponsor Rillo paninaro di Benevento quello è lo studio ragazzi io lo ammetto sono stato a Benevento non ho mai mangiato dei panini così buoni poi dopo ci contano per lo sponsor facciamo una collaborazione con Rillo per me si può fare oh la collaborazione con il burgo e il film oh serio magari da fare i video con la con il burgo no meroti io da fare i video perché magari se abbiamo 50 euro da spendere guarda dai dai ma stiamo distruggendo ma stiamo distruggendo ma stiamo morti se morisce anche l'hamburgo ragazzi ma stanno condannando anche loro c'è boh ma assurdo ragazzi 3000 like per questo video abbiamo fatto qui terambordogast sarà il Benevento è figa speciale halloween speziale la copertina di questo video sarà lo scudetto del Benevento fateci sapere se volete altri episodi del road ciao 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 altri che fanno sembrare di Mello Zlatan e Ciciretti Cantona cioè Cantona ciao ragazzi è finita qui ciao non chiuse mai non finisce mai il video guardate a fare il culo no è Sì